L'uomo ecclesiale è una figura che trova nella Chiesa non soltanto le ragioni di fondo, ma anche le forme e lo stile di una vita. Oltre a quello ci sono elementi molto suoi, come l'attenzione educativa e questa sensibilità in ordine alla vita civile, più che politica, proprio alla vita civile. Dietro evidentemente c'è anche un tema più direttamente spirituale, teologico, anche di appartenenza, alcune sensibilità ecclesiali, ma queste hanno un ruolo secondo rispetto a queste prime due. L'amicizia è nata col tempo, è partita certamente con l'impegno insieme a Roma in centro nazionale per il settore giovane dell'azione cattolica e poi è proseguita in maniera molto forte sia nel accompagnare attraverso la preparazione spirituale il matrimonio della nostra famiglia, sia poi quando lui come vicario generale mi ha chiamato assieme ad altre persone a dare una mano pastoralmente, quindi poi il Vescovo di Piacenza di allora, Monsignor Ambrosio, mi chiese di fare il segretario del Consiglio Pastorale di Ocesano. Direi che i capisaldi di questa amicizia erano e sono sostanzialmente una grande passione per la vita, una grande passione per il bene delle persone e quello che soprattutto Don Antonio mi ha insegnato sono diverse cose, un amore alla Chiesa, un amore disinteressato verso la Chiesa come segno dell'amore di Dio e da qui una grande attenzione educativa e a leggere, questo me lo porto nel cuore, a leggere le cose nella loro complessità e nella loro articolazione, sempre con uno sguardo però di fiducia e di speranza sul fatto che il bene si possa compiere.